ciao a tutti eccomi qui con un video dedicato alle genette shimmery shine ho acquistato questo bellissimo porta gioie carillon di shimmer shine l'ho preso su ebay ho acquistato l'oro queste belle ampolline con all'interno le genette che dopo andremo a vedere adesso apre la confezione e vediamo come funziona il carillon ecco qui ho tolto il portagioia dalla scatola abbiamo il cassettino dove poter mettere quello che si vuole tipo braccialetti collanini orecchini poi qui abbiamo le due genette shimmery shine come potete notare il portagioia a forma di ampollina essendo anche il carillon loro ballano e cantano premendo questo pulsantino che carine poi sopra ho visto dove si è scritto la scatola questo dovrebbe essere un anello questo diamantone che più per bellezza in effetti per qua molto molto bello sono contenta di averlo acquistato e poi come vi dicevo prima queste ampolline e all'interno di una si trova una genietta allora in questa verde abbiamo questa genietta poi abbiamo la viola all'interno della viola troviamo lei molto molto bella e poi abbiamo la rosa la rosa è proprio la prima che ho comprato e all'interno troviamo lei anche lei molto carina sono tutte tre genette davvero simpatiche e carine ok spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia piaciuto il portagioia carillon di shimmery shine ciao ciao alla prossima ciao ciao ciao